Pucci, non c'è più. Pucci, non c'è più. Ma che buono? Che buono vuoi sapere che vuoi trovare? Voglio stare inizia a te. Vuoi fidanzare con me? Non mi faccio fidanzare con te. Pucci, fai una scema. Io sono scema! I scemi non hanno scemi. Che buono? Non si è nascita, non si è nascita. Non ci sono scemi, sono scemi. Ma voglio diciamo a Capone che c'è una fidanzata. E vabbè, ci mangiamo. No, no. E la gente che sto tenendo è bella niente. Sono cose l'altro ponte, sono contenta verità. Chi mi chiama? Sono guaglione, giuridotte, gente anziana. Chi so somma, so ammigliare, che ho piacere, che mi fa. O Mariolo, l'avvocato, chi sta pure, che inguaiato. O Capone che ha suonato, dottore, l'ammalato. Su Capone, su Capone, cacciapà. 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 Mi piace la casa della Crippio Bacalà. Cammapuro laureate, chi sta all'era, chi ingazzate. Chi cacava sta picciate, chi cacava fatta a botte. E chi circote nell'otto, sette, vinte e quarantotto. Gioca a Napoli e vedrai, qualche cosa vincerai. Per la gente ormai si sa, che ha il sogno sempre cà. Su un'amica affezionata, nuva rende ormai acquistata. Ogni sere va a truà, e nuva e fa a scudà. Quante bovia da cucà, su un bel vei da fa. Su Capone, su Capone, cacciapà. Su Capone, su Capone, cacciapà. Su Capone, su Capone, cacciapà. Mi piace la casa della Crippio Bacalà. Capone, 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 cacciapà. Su Capone, su Capone, cacciapà. Su Capone, su Capone, cacciapà. Mi piace la casa della Crippio Bacalà. Capone, 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 Capone. Dove sono le telecamere? Sono pronta? Sono pronta? Sì, sì. Io sono la staffa. Ma dopo, mi parla tu brodo essere male. Hai ragione, pure i ballo mi dai ragione. Non sono risponente. Siete vicino i brodo. Stavo sul punto di ruota. Mi scupino? Mi hanno detto che devo fare una nuova trasmissione, che devo fare una trasmissione bellissima. Io non vedo le telecamere. Vedo tutta terra. Galli, gallina. E tu che sia fai a zappare? Riesci ma a te. Riesci ma a te. Io sono la staffa. Guardate la staffa. A proposito di stare. Ecco qua. Ecco qua. Allora. Faccio il provanti. Faccio il provanti. Faccio il provanti. Faccio il provanti. La canoscete che siano la figlia del Capone. e il sindone che deve fare la paletta per i bambini. Tu devi curare soltanto il settore dei bambini. I bambini. E a quattordici anni già non li ha più conferenze a papà. Capito? Se la papà ti scammazza sotto i piedi. Riesci lì. Bravo. E poi teniamo a Teresina che è vecchia ormai. Teresina è stata con noi da tanti tanti anni. E abbiamo chiesto da purpetta che come ti chiami tu? Mery. 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 Mery e Teresina. Ragazzi andatevi a sediare. Mi raccomando poi diamo anche il loro numero di telefono. Sì. Tutti quelli che vogliono chiamare. Mi scogliate i telefoni tutti e due come stanno. Non andate troppo vicino a Zintoni perché Zintoni è un poco grattoso. Voce, voce. Zintoni è un poco grattoso. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamoci a sottare. Grattoso amici. Poi Zintoni mi ha sottamaci e ormai la idà sa via a far sentere. Non hai ragione. L'anima. Zintoni è un'anima. Non c'è l'anima. L'anima del cafone. Chi è? Diciamo la verità. È il nutaro. È il nutaro. Dove sei il nutario? Il nutario è il nutario. Eccomi qua. Eccomi qua. Bentornati Zintoni. Grazie. Il caro cafone. Il calettino. Il nutario dimmi un poco oggi che giorno è? Oggi è lunedì 3 ottobre 2005. Santo Candido. Santo Candido. Santo Candido. Santo Candido. Un augurio a tutti i Candido. Tutta la gente Candida. Solamente a Zintoni. No perché tiene un'anima negra. Sì. Un'anima negra. Il tema. Il tema. Il tema. Il tema. L'argomento del giorno. Eh. Andremo a trattare. Non so se fa piacere a Zintoni una cosa di altri tempi. Eh. Le case giuste. E a proposito di case giuste. Tu che stai pensando? Che stai pensando? Che stai pensando? Che ne sanno quelli dell'età nostra? Oppure le donne. Il bicchiarello. No.